oggi vi propongo un video secondo me veramente interessante perché ha sia uno scopo pratico che uno scopo educativo infatti parleremo di una strategia che si potrebbe implementare anche in altre situazioni oltre a quella di cui parleremo oggi in questo video parleremo di una nostra vecchia conoscenza cioè Hindenburg Research qualcuno di voi si ricorderà che circa un annetto fa vi avevo parlato dello short report di Hindenburg su Nicolia e quella volta Hindenburg Research aveva azzeccato tutto pochi giorni dopo il mio video il CEO di Nicolia quello che era il CEO di Nicolia è stato accusato di frode non so se sia stato arrestato però se l'è vista piuttosto brutta il report che andremo a vedere oggi non è così sconvolgente però è un investimento con un ottimo risk reward è un investimento molto interessante un investimento short una vendita allo scoperto per chi non lo sapesse quando si vende allo scoperto si va a scommettere sul calo di un'azione e si può guadagnare dal calo dell'azione appunto benvenuti su investire con gus nello specifico oggi andremo a vedere uno short report su twitter Hindenburg Research dice vediamo un potenziale rischio che l'accordo tra twitter e Elon Musk venga riprezzato venga riprezzato al ribasso vi do prima un po di contesto per chi non lo sapesse Elon Musk ha fatto un'offerta per acquisire twitter a 54,20 dollari per azione per questo motivo recentemente l'azione ha performato molto meglio rispetto al nasdaq il nasdaq è crollato miseramente ma nel frattempo twitter è riuscita a mantenere un prezzo abbastanza accettabile abbastanza alto nel momento in cui sto girando questo video l'azione sta a 40 dollari per azione e quelli di Hindenburg Research ci dicono crediamo che se l'offerta di Elon Musk per twitter sparisse domani le azioni twitter potrebbero scendere del 50% circa nel momento in cui loro hanno pubblicato questo report twitter stava intorno ai 45 dollari per azione forse addirittura 50 quindi era ben più alta rispetto al livello attuale come vedete da questo grafico da quando Elon Musk ha presentato la sua offerta per twitter il nasdaq è crollato del 17,6 per e secondo i calcoli di Hindenburg Research se non ci fosse stata l'offerta di Elon Musk per twitter le azioni twitter in questo momento potrebbero stare intorno ai 31 dollari per azione perché chiaramente la quotazione di twitter è stata sostenuta dall'offerta di Elon Musk senza di questa probabilmente le azioni twitter sarebbero crollate miseramente come il nasdaq aspettate un momento vi siete ricordati di lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto per favore lasciate un mi piace se apprezzate questo genere di video e iscrivetevi al canale se siete nuovi grazie mille lo so che è fastidioso però è necessario che io lo chieda altrimenti il canale non crescerà mai più i like sono assolutamente fondamentali per l'algoritmo di youtube ma continuiamo twitter recentemente ha pubblicato i suoi risultati trimestrali che sono stati più deboli del previsto e Hindenburg ci dice che quei risultati inferiori rispetto alle stime precedenti non sono prezzati nell'azione di twitter nel valore attuale di twitter twitter ha portato la crescita di ricavi più lenta più debole degli ultimi sei trimestri però attenzione qua bisogna anche dire che è abbastanza normale perché i trimestri comparativi erano trimestri da pandemia perciò è normale che adesso ci sia un rallentamento lo stanno subendo tutti i social inoltre twitter ha ammesso di aver sbagliato a calcolare gli utenti attivi sembra abbiano sbagliato di circa due milioni di utenti una percentuale molto piccola rispetto al totale degli utenti attivi però fa pensare che magari le stime del management sugli utenti attivi siano ancora troppo alte tra l'altro anche ilion musk quando ha fatto la sua offerta ha spiegato che twitter è pieno di bot pieno di spam e pieno di scammatori il fatto che twitter sia pieno di spam e bot è ben che è noto dagli utenti ed è probabilmente molto difficile stimare quanti effettivamente siano gli utenti fittizi gli utenti spammatori terzo punto della tesi ribassista di hindenburg musk ha affermato che nel caso in cui non riuscisse ad acquisire il 100 per cento di twitter venderà la sua porzione del 9,2 per cento di azioni twitter questo ovviamente andrebbe a mettere pressione sulla quotazione la tirerebbe ancora più giù perché quando un azionista si muove a vendere velocemente un pacchetto azionario che vale il 9 per cento del totale della market cap ovviamente questo va per forza ad avere un effetto negativo sul valore dell'azione inoltre secondo hindenburg ilon musk potrebbe a un certo punto sfruttare la possibilità di uscire dal deal uscire dall'acquisizione di twitter pagando un miliardo come penale questo è forse il punto più discutibile della tesi di investimento short perché non penso che ilon musk non veda l'ora di pagare sto miliardo per non acquisire twitter se ha fatto la sua offerta probabilmente ha intenzione di portarlo a termine il vero problema è che una grossa parte di questa acquisizione è finanziata da azioni tesla che recentemente sono scese parecchio perciò potrebbe essere che ilon musk vada a cercare di rivalutare la sua offerta magari di ridurre un pochino il prezzo di acquisto che ha proposto e questo potrebbe chiaramente creare delle controversie che potrebbero portare ad un annullamento dell'accordo ma adesso andiamo a vedere la parte più importante che è la parte più importante di qualsiasi investimento cioè il risk reward nel momento in cui hanno scritto questo report twitter stava al 10 per cento di distanza dal prezzo di acquisto offerto da ilon musk quindi 54,20 dollari e secondo hindenburg il rischio che possa arrivare un'offerta più alta rispetto a quella di ilon musk è estremamente basso secondo hindenburg tra l'altro non c'è neanche rischio che l'acquisizione venga bloccata dall'antitrust però c'è il rischio che l'acquisizione possa prolungarsi parecchio nel tempo non mi trovo totalmente d'accordo sul fatto che l'antitrust non sia intenzionata a bloccare questa acquisizione non saprei dirlo però potrebbe essere che l'antitrust possa entrare a gamba tesa e bloccare il tutto in tanti post in tanti articoli silenzio di persone molto infastidite dal fatto che l'ennesimo riccone miliardario vada a comprarsi un social quindi un mezzo per far sentire la propria voce per dare peso importanza valore la propria voce perché qualcuno teme che in questo modo potrebbe influenzare il pensiero di molte persone quindi non escluderei un'entrata gamba tesa da parte di qualche politico da parte dell'antitrust però il punto più importante il punto che va tenuto a mente in ogni investimento che facciamo e che in questa possibilità di shortare twitter nel momento in cui hanno fatto questo report e tenete bene a mente che l'azione era ben più alta rispetto alla quotazione attuale c'era la possibilità di perdere il 10 per cento contro la possibilità di guadagnare il 50 per cento secondo le valutazioni di hindenburg perciò il risk reward era pesantemente favorevole quindi questo investimento questo short è estremamente interessante era meglio estremamente interessante quando l'azione era più alta perché il risk reward era molto ma molto favorevole perciò questa è una strategia che dobbiamo tenere a mente che si potrebbe utilizzare anche nel caso di altri arbitraggi perché con gli arbitraggi l'unica cosa è certa che se l'acquisizione andrà a buon fine il prezzo lo sappiamo il prezzo è ben fissato invece non sappiamo con certezza quale potrebbe essere il downside però la maggior parte dei casi è anche abbastanza pesante perciò se sappiamo che possiamo perdere magari il 5 il 10 per cento però possiamo guadagnare il 20 il 30 il 40 per cento allora magari il risk reward sta dalla nostra parte quindi questa strategia di shortare gli arbitraggi potrebbe essere un'arma da aggiungere al nostro arsenale di investitori al momento però con l'azione twitter che è scesa parecchio questo investimento non è più interessante come lo era quando hindenburg ha pubblicato questo report però credo che questa sia una strategia molto interessante da tenere veramente da tenere in considerazione per il futuro quindi questa strategia è sostanzialmente l'opposto di un arbitraggio invece che puntare sul successo dell'acquisizione si va a puntare sul fallimento dell'acquisizione effettivamente generalmente il potenziale guadagno da un possibile fallimento di un'acquisizione è più alto rispetto al potenziale successo di un'acquisizione perché nel momento in cui l'acquisizione viene annunciata il prezzo dell'azione si avvicina moltissimo al prezzo teorico dell'acquisizione voi cosa pensate che succederà a twitter pensate che alla fine ilon musk riuscirà ad acquisirla oppure no fatemelo sapere nei commenti per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete fino al prossimo video buoni investimenti a tutti ciao